Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, bentornati a questo appuntamento pomeridiano con i webinar di Ericsson. Siamo qui nella nostra sala Don Milano e nella sede Ericsson di Trento insieme a Diario Ianes per fare un po' il punto sulle direzioni emerse nel convegno didattiche che è appena stato dieci giorni fa. Al Palacongressi di Rimini è stato un appuntamento importante con 150 relatori, 1600 partecipanti, ma soprattutto tante nuove idee emerse rispetto alle direzioni di innovazione per una scuola sempre più inclusiva, sempre più equa, anche capace di ragionare su quelli che sono i valori e i punti forti su cui andare a discutere. Allora oggi abbiamo pensato di strutturare questo appuntamento sicuramente anche raccogliendo i vostri commenti, le vostre domande che potete sempre fare nel corso della diretta, ma cercando di commentare e un po' dialogare rispetto a una serie di video che abbiamo fatto con tanti relatori nel corso del convegno per ricostruire un po' un filo diciamo di queste due giorni così pieni di appuntamenti rispetto alle tematiche che poi ci stanno molto a cuore chiaramente come Ericsson e in genere come comunità. Allora io inizierei da ciò di cui non si può non parlare diciamo, ecco il risveglio brusco del post didattico, nel senso che il bagno nella realtà scolastica del discorso sulla scuola non poteva che essere più crudo, ecco dopo un giorno e mezzo di appuntamenti, di visione di una scuola diciamo che si riconosce in una serie di valori e anche di direzione di innovazione e nella settimana successiva la scuola italiana è stata investita da tutta una serie invece di discorsi molto molto diversi e veramente che sembrano appartenere a un altro mondo da questo punto di vista rispetto a quello di cui abbiamo parlato a Rimini, il ritorno dell'idea del merito, questa uscita più o meno infelice sulla, non viene neanche di nome diciamo, del ministro Valditara in questo momento, sulla mortificazione, sull'umiliazione, sul valore formativo dell'umiliazione poi in parte rimangiata rispetto all'umiltà e non all'umiliazione, però in genere si è tornati veramente a discutere di una scuola che si sta interrogando su come reprimere in maniera più efficace, su come gestire al meglio le punizioni, l'idea dei lavori sociali visti come una forma di umiliazione, come una forma di punizione rispetto a chi non rispetta le regole, insomma tutti i temi che molto lontani dalle direzioni che abbiamo visto. Allora innanzitutto chiedo a Dario Ianes qual è la percezione, se anche per lui è stato così traumatica diciamo il ritorno alla scuola di tutti i giorni. Ma guarda, un po' meno traumatica forse, nel senso che io credo che ci sia un grande scollamento tra chi come esponente politico deve accreditarsi con alcune idee chiaramente di destra rispetto a un suo elettorato e non fa i conti con la scuola vera, con la scuola reale. Allora io credo che quello che abbiamo visto a Rimini era sicuramente era sicuramente una scuola reale fatta di persone vere, tante persone vere che c'erano lì e hanno lavorato insieme con noi, hanno lavorato assieme, hanno costruito e soprattutto si sentiva, sentivamo dentro di loro motivazione, entusiasmo, gioia, ma non solo finalmente di essere di nuovo in presenza, ma proprio di costruire insieme un'altra idea, un'altra idea di scuola. Per cui c'è questo scollamento che molti... c'è un'intervista bellissima oggi sul domani, sul gioco di parole, sul quotidiano, di un grande pedagogista che dice ma... insomma... cosa sono... non dovremmo neanche stare qui a parlare... non dovremmo neanche ascoltarla... io credo che un ministro che ha una grande responsabilità non dovrebbe fare il pedagogista, dovrebbe creare le condizioni strutturali... infatti una delle persone intervistate, una persona di scuola, un'insegnante, dice ma qui abbiamo i termosifoni rotti, abbiamo le cose... non abbiamo formazione, noi abbiamo bisogno di condizioni strutturali per lavorare bene, non di editti che, come dire, minaccino chissà quale severità, chissà quale ritorno all'antico. Per cui noi abbiamo bisogno di una classe dirigente che crea le condizioni perché le persone lavorino bene. Se io mi trovo in una classe difficile, molto difficile, e ce n'è ovviamente, ce n'è, io devo essere sostenuto nella mia attività quotidiana. Per cui quei timidi accenni tra tutte le altre fantasie punitive, quei timidi accenni allo psicologo, al pedagogista, al supporto, alla formazione, quelli vanno presidiati, quelli vanno presidiati. Per cui il bagno di realtà che abbiamo vissuto a Rimini, io lo sento ancora dentro di me, lo sento ancora nelle cose, nelle relazioni che abbiamo, nei lavori che facciamo, perché sento quella come scuola vera. Il resto sono proclami, insomma, che lasciano il tempo che trova, mentre iniziative concrete sarebbero ospicabili. Allora, iniziando la nostra carrellata di video, io volevo iniziare da quello di Vanessa Roghi, che è stata con noi in plenaria, che partiva proprio da questa seggessione, ce l'ho trovata molto in linea, diciamo, col dibattito di questi giorni. Vanessa Roghi, durante il suo intervento, durante la sessione plenaria, si chiedeva cosa dovrebbe essere una scuola, se non democratica, in una repubblica democratica. E forse, diciamo, è bene continuare a riflettere sul peso di queste parole, se possiamo vedere il video di Vanessa Roghi. Riflettere sulla relazione che esiste fra scuola e democrazia non è scontato, perché queste due parole, troppo poco spesso, vengono messe una accanto all'altra in modo sensato. È successo negli ultimi anni, anzi direi quasi decenni, che l'aggettivo democratico sia diventato progressivamente sinonimo di scuola facile, scadente. E questo veramente fa riflettere, perché la nostra è una scuola democratica, perché fa parte di un paese democratico, molto banalmente. È una scuola che deve rispondere ai dettami della Costituzione, è una scuola che deve essere pensata, fin dal momento in cui si mette piede proprio dentro l'aula scolastica, ma anche nelle relazioni con i colleghi, con i dirigenti, con le famiglie, come un'istituzione che risponde alle istanze di uno Stato democratico. Questo significa che ogni processo di apprendimento, di insegnamento, di collaborazione, deve essere fatto all'insegna della partecipazione. La partecipazione è quella cosa che distingue la democrazia dalle altre forme di governo. E francamente penso, e come me ovviamente, questo sto sulle spalle dei giganti, nel pensarlo, che una scuola nella quale non si pratichi la partecipazione per conoscere sia una scuola che educa cittadini a metà. Prima di commentare le cose, vorrei anche far vedere un video successivo di Sonia Colluccelli. Anche lei, diciamo, che ha partecipato ai lavori di sabato, della sessione finale, perché Sonia porta una riflessione sul senso di libertà individuale e del rispetto delle regole, che trovo molto affine a questo discorso. Mentre Vanessa Roghi parla più proprio della storia anche della scuola e di come una scuola democratica si possa sviluppare, Sonia Colluccelli invece focalizza l'attenzione proprio sulla gestione individuale, della libertà individuale, proprio rispetto anche a rispetto delle regole della scuola. e questo penso sia interessante, per cui possiamo vedere questo secondo video. Una delle più grandi sfide educative che abbiamo come insegnanti, anche come genitori, come educatori in senso lato, sia quella di provare a accompagnare i nostri bambini a crescere coniugando due termini apparentemente tra loro in opposizione, quello di disciplina e quello di libertà. Pensiamo al bambino disciplinato spesso come ad un bambino obbediente e al bambino libero come ad un bambino che agisce senza uno scopo in maniera un po' casuale. Ecco, la definizione di autonomia forse ci aiuta in questo, perché il bambino autonomo in realtà non è un bambino sregolato, privo di regole, ma un bambino che comprende la necessità di una regola, perché la parola nomos vuol dire esattamente questo, vuol dire regola, ma sa definirlo in prima persona, sa definire quella regola in prima persona e sa comprenderne il significato. Allora, che cosa ci allontana da questo obiettivo, dalla costruzione di questa competenza di reale autonomia e di libertà disciplinata? Quello che ci allontana è l'idea di dover condurre noi come adulti ad un'obbedienza tutta costruita spesso su premi, punizioni, quelli che nel comportamentismo vengono definiti come rinforzi. Quindi leve legate alla gratificazione che al bambino sta a cuore per ottenere comportamenti funzionali. L'azione costante nell'utilizzo di questi rinforzi allontana l'acquisizione di una reale competenza nella gestione della propria libertà, perché poi nella realtà noi dobbiamo mandare nel mondo persone adulte capaci di orientare le proprie azioni in maniera consapevole, quindi finalizzando azioni libere. E questo credo che sia esattamente la sfida che dobbiamo tentare di vincere per ciascun bambino e per la comunità nel suo insieme. Sono due temi molto grandi ed estesi che segnano un po', hanno segnato un po' anche la linea che abbiamo cercato di dare a questo convegno in cui anche il tema dell'apertura didattica è centrale, il tema della democrazione, della maggiore partecipazione, della maggiore libertà di scelta anche da parte degli alunni è sempre un tema che ci sta molto a cuore. Qui, Dario Ianes, qual è? Ma sono, hai ragione, sono strettamente legati. Sono strettamente legati perché il principio democratico è il principio del dialogo. Tu parli, non parli. Allora, anche la classe più difficile, anche il bullo più bullo, no? Cioè, ma ci prendiamo il tempo e la forza, diciamo, e la tranquillità, se vogliamo, anche psicologica, di parlargli, di fare un dialogo, di fare un discorso, di cercare di capire, no? O abbiamo un atteggiamento di non ascolto, punisco, controllo, regolo. Questo si lega direttamente alla seconda questione, no? Come tu dicevi, quella della libertà. Perché all'origine di molti comportamenti, visto che abbiamo sto tormentone, adesso di quelli che si comportano male, no? Ma all'origine anche di questo c'è l'illibertà. Cioè il fatto che tu non puoi scegliere niente. Tu non puoi scegliere niente. Sei un numero, diciamo, che passa attraverso una serie di attività assolutamente eterodirette. Voi con l'uccelli dice autonomia, no? Sono io che cerco di scegliere un po' alla volta, capisco, cresco, no? Rispetto a questa cosa del dire, ma io cosa mi piacerebbe, cosa sento utile per me, che tipo di programma mi faccio. E queste sono delle competenze. Allora, ascoltare e dare margini sempre più ampi di libertà, beh, questo è una, no? C'è una bellissima vignetta che gira in cui si vede un bimbo sofferente che deve fare una serie di attività e poi sopra la disescalia, beh, all'università potrei scegliere. Intanto per anni e anni e anni sarei sottomesso, diciamo, ad un regime assolutamente direttivo che in alcuni evidentemente può portare a una specie di contro-controllo, vuol dire. In realtà poi, insomma, nelle esperienze italiane, ma poi anche internazionali, ci sono parecchi esempi invece di maggiore apertura e maggiore flessibilità scolastica. Penso tutto l'orizzonte della didattica aperta, ma anche della didattica a stazioni che abbiamo avuto in vari workshop all'interno del convegno, ma anche a tante sperimentazioni, a scuola senza zaino, piuttosto che allo stesso metodo analogico, bortolato, sono tutti metodi, no, che poi si... Senza voti. Senza voti, esatto. Che adesso sembra diventare una cosa eccezionale. Sono esperienze che hanno grandi tradizioni. Sarebbe un bel movimento, no, quello di raccogliere. Ecco, se il nostro ministro volesse fare una cosa utile per la scuola italiana, potrebbe dire, ma scusa, tutte quelle esperienze di superamento del voto paranoico, il voto repressione, perché non le metto assieme a fare un bel, no, gli stati generali delle scuole senza voti, no, e come, no, e come hanno costruito un percorso, che è un percorso non oppressivo, ma un percorso... Ecco, queste sono le cose che secondo me deve fare culturalmente un ministro, cioè rendere disponibile ad altri buone prassi, idee, suggerimenti, cose che poi migliorano la qualità della scuola. Nel corso del convegno poi abbiamo avuto questa serata speciale gestita da Ivan Szapeconi sul valore della memoria. Io farei vedere subito il video di Ivan, una pillola di... La storia dei ragazzi di Villa Emma è la storia vera di un gruppo di ragazzi, ragazze, bambini e bambine che arrivano nel periodo della Shoah, sono ragazzi ebrei, arrivano in un piccolo paese della pianura padana che si chiama Nonantola e in provincia di Modena. Ed è una storia che ci insegna che questo passato noi lo dobbiamo meritare in qualche modo. Perché è un passato di... è una storia di accoglienza e all'interno ci sono le tre parole del convegno di quest'anno e cioè accogliere, mettere a fuoco, aumentare. È una storia nella quale le persone del paese di Nonantola mettono a fuoco la diversità dei ragazzi che arrivano nelle loro case, li accolgono e poi ne escono aumentati, ne escono arricchiti. È una storia che parla alla scuola perché la scuola che accoglie è una scuola inclusiva, che riconosce tutte le diversità, le fa proprie e ne fa in qualche modo uno strumento di miglioramento complessivo che aumenta le capacità di tutti. Bisogna fare attenzione però perché questa non è l'unica tradizione della scuola. C'è stato un periodo più antico in cui la scuola era la scuola della selezione, la scuola in cui la meritocrazia aveva una certa funzione selettiva, esclusiva. ed sono queste parole d'ordine che rischiano di tornare. È strano, non è strano poi che ritornino in un periodo in cui si torna anche a parlare di guerra. Quindi bisogna fare attenzione perché la scuola se è vero che aiuta a costruire il futuro lo può fare veramente solo se sappiamo scegliere su quale passato basarci. Mi piaceva questa pillola proprio perché rifocalizza il valore dato alle differenze, all'accoglienza della differenza, delle diversità e anche a come poi la scuola possa poi prendere direzioni completamente antidemocratiche in alcuni momenti della storia e chiaramente non è questo il caso dell'attualità ma è vero che comunque le scuole sono sempre colpite in prima battuta da tutti gli eventi internazionali nell'immediato penso anche al recente conflitto in corso in Ucraina i primi giorni di conflitto parte delle scuole la scuola è stata una delle prime istituzioni a essere chiusa a essere riorganizzata anche noi abbiamo fatto dei webinar in quel periodo febbraio marzo sia sull'accoglienza delle scuole italiane verso le persone che arrivano dalle zone di guerra ma sia anche proprio su come in Ucraina si stessero riorganizzando per mantenere i contatti penso che mai come quest'anno la complessità del mondo sia entrata poi nelle classi delle nostre scuole per cui penso che sia stato un momento importante non solo chiaramente per il valore dato alla memoria della Shoah e della storia di Villa Emma ma poi proprio più in generale per riflettere sul valore che la scuola ha sempre nei confronti di questi macro scenari così importanti un altro tema che emerge fortemente dai lavori del convegno è quello delle relazioni educative allora volevo far vedere due video in seguito il primo di Daniela Lucangeli che è stato noi che riflette sul senso dell'essere magister il secondo invece di Fabio Geda che invece è scrittore che ha fatto un intervento nel corso della plinaria di sabato e riflettendo sul rapporto tra nuove generazioni e futuro e secondo me sono due temi sono tre temi insieme anche a quello sottolineato da Ivan Siapeconi che si uniscono in uno sguardo unico sul futuro della scuola cosa significa essere magister secondo me anzi secondo noi mi chiedete beh io direi proviamo a entrare nelle nostre memorie nei nostri ricordi perché lì se abbiamo incontrato un magister l'abbiamo riconosciuto e se non l'abbiamo incontrato ancora ci manca nonostante siamo diventati oramai grandi e magari anche competenti cioè magister è qualcosa che proprio si sente abbiamo tanto detto che la mente sente non soltanto cogniziona e quindi quando incontriamo un magister vero è come un incontro autenticamente di relazione che si instaura poi possiamo trovare tante parole che sono anche scientificamente fondate per cui il magister è modello significativo di riferimento è differenziale di sviluppo ci garantisce diritto all'errore sa aiutare e non giudicare quindi abbiamo tanti principi fondativi nelle scienze che si occupano dello sviluppo della mente dell'educazione però soprattutto lo direi così incontrare un magister in segna cioè segna dentro ed è ora di non continuare a segnare errori ma segnare vie di percorso per l'obiettivo migliore per i figli di tutti e questo è quello che è la scuola che vorrei noi adulti siamo chiamati oggi ad accogliere la voglia di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze soprattutto cucendo con loro una grande alleanza per loro è faticoso avere accanto adulti spenti adulti che non hanno più voglia di lottare adulti che in maniera ipocrita hanno fiducia nella loro forza e nella loro volontà di cambiamento quando siamo noi a non avere abbastanza forza per produrre un cambiamento per loro seconda cosa questa visione del futuro è oggi la più grande difficoltà il più grande impaccio nel crescere arriviamo da generazioni a cui il futuro veniva raccontato come una promessa per i ragazzi nati negli anni 90 o nei primi anni 2000 il futuro risulta soprattutto una minaccia credo che per la prossima generazione la cosiddetta generazione alfa dovremmo davvero riprovare a ricostruire un futuro visto come una possibilità molto sul senso del futuro delle relazioni all'interno delle scuole della partecipazione in particolare questo ultimo anche l'intervento di Fabio Geda in plenare è rimasto molto visto è stato anche molto condiviso nella comunità sui social sia in diretta sia nei momenti successivi da dove è che si può partire secondo te Dario per iniziare a cambiare un discorso sul futuro all'interno delle scuole con le nuove generazioni ma c'è un concetto molto bello che Fabio Geda ha toccato è quello di alleanza alleanza cosa vuol dire non vuol dire fare le stesse cose e fondersi e confondersi ma vuol dire avere pur nella differenza di ruoli io sono il docente tu sei lo studente la studentessa ma avere un fine comune il fine comune è quello di arrivare a sviluppare i propri talenti le proprie inclinazioni i propri interessi eccetera allora se siamo alleati io non sono il tuo giudice ma sono il tuo allenatore no? cioè alleato e allenatore pensate a com'è com'è drammaticamente differente la relazione che ha magari anche lo studente un po' ribelle un po' problematico tra virgolette con i suoi prof o il suo allenatore di calcio allora l'allenatore di calcio di cui ha una stima incredibile e segue come dire alla lettera le varie indicazioni non si sognerebbe mai di disubbedire è il suo alleato è il suo alleato perché insieme hanno un obiettivo che è quello di vincere la partita o vincere il campionato auspicabilmente mentre il prof è la controparte spesso è la controparte è il giudice è il giudice che devi in qualche maniera fregare fregare copiando barando no? cioè il meccanismo dei voti mi ricordo ne abbiamo parlato anche con Daniela poi quando eravamo no? nel suo grande incontro il meccanismo dei voti ti spinge all'illegalità ti spinge a truffare a barare a crearti il bigliettino tutta la copiatura cioè che non è una cosa tra virgolette sana no? nessun calciatore o nessun tennista si sognerebbe di vincere una partita coi bigliettini barando no? perché è un altro è un altro mondo allora noi dovremmo secondo me per ridare anche questa visione di futuro mi ricordo un bel libro che ha fatto storia anche questo di Benassayag l'epoca delle passioni tristi no? quando c'era questo come dire come faccio ad essere entusiasta anche della scuola del percorso di crescita se ho paura del futuro penso che andrà male che ci saranno tutta una serie di guai che incombono evidentemente sul nostro futuro ma allora io credo che la scuola abbia anche questo ruolo di incentivare sempre di più sogni progetti desideri desiderio desiderio l'altro anche recalcati spesso ricordano l'eros il desiderio di fare qualcosa diventare qualcosa cioè di crescere no? in questo allora ho bisogno di alleati per fare questo non ho bisogno di giudici che mi blocchino continuamente e ad esempio mi facciano addirittura ripetere no? il mondo Milani diceva una cosa fondamentale forse bisogna ricordarlo a Valditara diceva agli svogliati basta dargli uno scopo sì diciamo che paradossalmente poi tutte queste tutti questi spunti vengono spesso poi girati come forma di colpevolezza sulla scuola democratica che non funziona nel senso che poi molto spesso l'accusa che viene fatta è che proprio questo approccio abbia poi portato a una delegittimazione nella scuola e quando invece poi insomma abbiamo decenni di ricerche pedagogiche didattiche che vanno nel senso contrario penso anche a recenti volumi quando si discute di autorità della scuola di autorità dei docenti che va recuperata che questo sia un tema molto sentito soprattutto poi nella scuola secondaria ed è anche un bisogno che tantissimi esprimono cioè tantissimi docenti anche di quelli che erano presenti a Rimini sentono il bisogno di una maggiore autorità nei confronti delle famiglie e anche degli studenti il tema qui è come raggiungerlo probabilmente se raggiungono attraverso un maggiore autoritarismo o invece attraverso una maggiore partecipazione appunto uno scopo maggiormente condiviso penso che qui le strade iniziano realmente a separarsi poi sulle scelte didattiche perché poi questo è un convegno che anche nel nome è la parola didattica quindi la scelta delle strategie la scelta degli obiettivi la scelta degli strumenti per arrivare poi a fare scuola quotidiana questo penso sia un tema molto sentito questo fenomeno qua che io lo chiamo diagnosi giusta terapia sbagliata no? allora se noi pensiamo anche al libro che ci ha fatto tanto arrabbiare il danno scolastico di Mastro Cola Ricolfi che tra l'altro sono dei personaggi che ispirano il nostro Mastro allora lamentazione no? scuola che non è più ascensore sociale scuola che in cui tanti alunni e tante alunne non raggiungono neanche obiettivi no? accettabili i termini di comprensione del testo alfabeto cioè ok bene ma allora se questa è la diagnosi tra virgolette la terapia qual è? tornare alla mia vecchia scuola media quando avevamo il grembiule tornava no? i lavori socialmente utili l'autoritarismo non l'autorevolezza tutta la cosa oppure qualcos'altro oppure qualcos'altro allora i dati cosa ci dicono? ci dicono che quando tu fai bene inclusione quando fai bene didattica quando fai bene pedagogia infanzia primaria ad esempio no? non siamo affatto male come scuola italiana allora bisognerebbe che questi punti di forza venissero estesi anche alla secondaria del primo e secondo grado no? e non creare quella frattura diabolica tra quello che è infanzia primaria e quello che è invece secondaria del primo e secondo dove molti docenti sono lasciati docenti naif che non hanno alcuna preparazione didattica pedagogica alcuna vengono lasciati drammaticamente soli ed è un lavoro estremamente difficile perché quando lavori con adolescenti quando lavori con preadolescenti magari con qualche difficoltà sempre più diffusa beh insomma qui ci vuole tanta 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 preparazione e tanto tanto supporto supporto concreto hai nominato hai sottolineato anche tu prima il tema delle alleanze allora farei vedere due video adesso una dell'esperienza insomma che ha toccato tutti noi portata dalla dirigente di Bartolo sull'istituto comprensivo statale Sperone Pertini del quartiere Brancaccio di Palermo quindi lì sì una situazione sociale familiare estremamente complessa affrontata poi con creatività con alleanze proprio sul territorio con una grande motivazione con un'apertura della scuola al contesto culturale e sociale per trasformare effettivamente un contesto di partenza molto complesso in un'esperienza poi diffusa e anche riconosciuta a livello nazionale e internazionale e poi farei anche vedere il video girato invece con la dirigente Stornaiolo di Napoli Rosa Stornaiolo è dirigente dell'istituto Scialoia Cortese di Napoli sul service learning perché il service learning è una delle direzioni più sperimentate in Italia tra l'altro anche molto promossa da avanguardie educative ed indire proprio per cercare di mettere a punto quella che è la connessione tra scuola e extra scuola quindi una visione realmente valorizzante di quello che è il lavoro nel contesto sociale che mi piacerebbe in questi giorni proprio anche molto recuperare ecco appunto c'è una scuola che sta sperimentando sta realizzando sta riflettendo sulla messa diciamo in alleanza dei vari contesti e sicuramente anche nel lavoro sul tessuto sociale è una grande risorsa e non sicuramente un'umiliazione ecco per riprendere diciamo note che ultimamente proprio non ci sono piaciute ecco per cui se possiamo vedere questi due video percorsi di partecipazione verso nuovi immaginari è la testimonianza di quello che la scuola può fare e deve fare in contesti anche impegnativi deve assumere doveri speciali per contesti bambini e bambine che hanno diritti speciali non dobbiamo aver paura di ciò che possiamo fare anzi dobbiamo interpretare al meglio tutte le potenzialità nostre professionali per far fiorire talenti e vocazioni dei nostri alunni ma anche dei nostri territori il service learning potenzia l'ambiente di apprendimento e favorisce lo sviluppo di quelle competenze e di quei comportamenti che sono necessari ai nostri ragazzi per inserirsi in una maniera attiva costruttiva e resiliente nella complessa realtà in cui viviamo precisiamo innanzitutto che quando parliamo di service learning ci riferiamo ad una proposta pedagogica che unisce il service ovvero le azioni solidali la cittadinanza attiva al learning cioè all'apprendimento apprendimento di comportamenti e di pensieri sostenibili infatti il service learning intende proprio promuovere apprendimenti in situazione e quindi si parte dall'analisi della realtà nella quale è inserita la scuola si individua un problema si progetta un percorso risolutivo si attua questo percorso e quindi si valutano i risultati le caratteristiche fondamentali del service learning sono soprattutto il forte protagonismo degli allievi in tutte le fasi dall'ideazione alla valutazione e la collaborazione collaborazione tra gli alunni e collaborazione tra gli alunni e il territorio con il service learning infatti la classe esce fuori dall'aula e va nel territorio e il territorio entra in classe e quindi studenti e territori collaborano per migliorare il contesto il service learning sicuramente è una proposta molto inclusiva in quanto prevede interventi in cui vengono sollecitati contemporaneamente la mano la mente il cuore e quindi rientrano nella didattica per competenze che per sua natura è una didattica inclusiva interventi in cui ciascun alunno dà ciò che può offrire e prende ciò di cui ha bisogno interventi che vanno ad intercettare sia i bisogni formativi di quegli alunni che fanno fatica ad andare a scuola che sono demotivati disaffezionati allo studio sia i bisogni formativi di quegli alunni che invece hanno una marcia in più che sono portatori di particolari talenti e che quindi necessitano di obiettivi cognitivi più sfidanti per evitare la demotivazione vorrei aggiungere inoltre che soprattutto in questo periodo le scuole sono particolarmente impegnate nella progettazione di percorsi per contrastare la dispersione scolastica e per ridurre i divari territoriali anche supportate dai cospicui fondi del PNRR quindi se non ora quando mi sembra proprio che sia il momento giusto per far sì che il service learning entri nel curricolo aiuti a ridefinire il modo di fare scuola e così da restituire alla scuola la sua funzione di ascensore sociale e consentire finalmente ad ogni alunno di riuscire al meglio negli apprendimenti e nella partecipazione sociale indipendentemente dalle caratteristiche del suo funzionamento quindi abbiamo voluto riportare qui un tema molto importante all'interno del convegno poi più in generale la capacità poi trasformativa della scuola rispetto anche alla realtà sociale esterna questa è un'altra direzione molto molto importante cioè cercare di aumentare la connessione tra il mondo reale e il mondo scolastico non solo in un'ottica di mercato del lavoro futuro di formazione e di preparazione al mercato del lavoro che aspetta tutti gli studenti al di fuori alla fine del percorso ma anche proprio rispetto alla realtà diciamo quotidiana sociale in cui si trovano a vivere questa è una dimensione penso strategica dell'essere scuola guarda questi queste due persone sono due dirigenti scolastici due dirigenti scolastici di zone del nostro paese che hanno qualche bel problema e allora loro cosa ti dicono ti dicono noi dobbiamo far crescere i cittadini cittadini che si prendono cura del loro ambiente Palermo è bellissimo escono fai murales fanno rivitalizzano un'intera zona ma lo stesso discorso a Napoli allora questi sono dirigenti che dicono ai loro docenti ai loro docenti non siate ossessionati da farli il programma che non c'è più ma c'è dentro di voi comunque insomma siate liberi siate liberi di dire guarda dobbiamo occuparci di chi dorme in strada no? bene eh ma non riusciamo a fare grammatica non riusciamo a fare analisi del periodo ma che ti frega cioè tu no? cosa diventerai cioè uno che sa fare l'analisi del periodo in maniera conosci effettivamente gli aggettivi determinativi o gli articoli ecco mi confondo non so se sono più articoli o aggettivi determinativi o indeterminativi ma fai qualcosa per il bene comune per la tua società noi abbiamo bisogno di persone con la testa e Daniela e tutti noi aggiungeremo il cuore ben fatto il cuore ben fatto e non ben pieno perché noi siamo cioè persone tecnicamente evolute tecnicamente competenti possono essere devastanti dal punto di vista sociale per cui questi due dirigenti questi due dirigenti io credo l'abbiamo proprio prese come esempio luminoso di quanto un dirigente può fare la differenza rispetto alla sua scuola anche proprio per riportare sempre anche la dimensione del convegno anche ho visto anche nei commenti che stanno arrivando la dimensione trasformativa di chi a scuola sta poi tutti i giorni cioè di chi la scuola la fa tutti i giorni noi cerchiamo sempre di riportare dalle plenarie a tantissimi interventi nei convegni proprio la pratica diciamo la capacità anche di risoluzione pratica dei problemi di chi poi quelle scuole le gestisce oppure chi in quelle scuole insegna in tutte le scuole in tutti i gradi scolastici e ti sei servito un assist a te stesso nel senso che il prossimo video è il tuo e quindi perché tu comunque hai portato un elemento importante di riflessione cioè una rilettura del pensiero di Edgar Morin rispetto proprio alla innovazione del curriculum dei saperi e quindi non so se lo vuoi commentare prima o se allora vediamo il video prima vediamo il video grande intellettuale sociologo filosofo Edgar Morin compierà 101 anni compierà 101 anni e per questo io ho pensato molto utile rileggere criticamente in chiave di contemporaneità due suoi libri che ormai hanno più di 20 anni ma sono assolutamente interessantissimi ed applicabili che sono la testa ben fatta e i sette saperi necessari per l'educazione del futuro soprattutto i sette saperi possono diventare una specie di riferimento diciamo metodologico per costruire una specie di metacurricolo o megacurricolo se possiamo chiamarlo così per uscire dalle logiche delle materie delle discipline della valutazione ovviamente dei voti e costruire invece un percorso che porti dai tre anni fino ai 19 proprio questo megacurricolo orientato su sette saperi essenziali ecco un sapere non è una disciplina non è una competenza ma qualcosa di più una forma mentis è una specie di postura etico esistenziale quasi oltre che epistemologica per cui ci sono due saperi fondamentali che sono capire l'errore e l'illusione della nostra mente e pensare in termini più globali questi sono i primi due poi ce ne sono due fondamentali che sono condizione umana e condizione terrestre perché noi siamo un'umanità diciamo complessa che vive in una terra sempre più minacciata diciamo dalla nostra stessa esistenza poi ce ne sono tre di tipo etico esistenziale che sono affrontare l'incertezza navigare in un mare di incertezza e l'etica della dimensione terrestre come terra patria come cittadinanza terrestre e la comprensione umana ecco la comprensione umana come capacità di comprendersi dialogare e costruire una solidarietà planetaria per lì che Moren più di vent'anni fa metteva la base di una scuola che sia effettivamente formativa e non solamente istruzionale in senso tecnico nozionistico faccio una domanda questi sette saperi questi sette questo megacurricolo come hai detto quanta influenza ha sull'insegnamento delle discipline in realtà poi nelle scuole secondarie cioè nel senso qual è la connessione tra le discipline scolastiche che comunque stanno all'interno degli ambiti anche diciamo necessari perché poi le indicazioni nazionali si svolgono chiaramente rispetto a degli ambiti curricolari rispetto a queste a queste direzioni di Moren quale operazione mentale dovrebbe fare l'insegnante di lettere piuttosto che l'insegnante di matematica rispetto a questo scenario in che modo questa cosa va a influenzare il suo lavoro ma guarda allora il buon Moren disse spesso la realtà non è divisa discipline la realtà è globale sistemica complessa nel senso di interconnessa le problematiche sono globali planetarie trasversali politransdisciplinari questo diceva dunque noi a scuola invece dividiamo segmentiamo bene allora prendiamo un esempio pandemia 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 è segmentabile per discipline la biologia la sociologia la scienza della comunicazione l'epidemiologia cioè ognuno ha qualcosa da dire no? questo è evidente ma dobbiamo dirlo insieme per cui quello che mi affascina del discorso di Moren è che di fronte a grandi temi pensiamo né un altro le migrazioni l'aspetto geopolitico della terra l'inquinamento crisi insomma siamo piedi di situazioni complesse queste sono il nostro curricolo cioè queste sono il tema che noi dobbiamo affrontare allora possiamo affrontarlo il cambiamento climatico possiamo affrontarlo con i bimbi e le bimbe molto piccoli con gli strumenti chiaramente concettuali e cognitivi che loro hanno non possiamo affrontarlo a livello altissimo ma mettendo assieme i diversi sguardi per cui il sottotesto diciamo del pensiero di Moren è noi dobbiamo dialogare e dobbiamo costruire insieme approcci allora chi insegna scienze piuttosto che chi insegna matematica chi insegna lettere sono figure importanti di intellettuali che affrontano dalla loro ottica un problema che è un problema comune è un problema comune e affrontando insieme da diverse ottiche noi costruiamo saperi nuovi saperi nuovi quel discorso che Moren fa di cogliere le fonti dell'errore ma questo possiamo affrontarlo con dei bambini molto piccoli sulle loro come dire ingenuità errori di tipo cognitivo possiamo affrontarlo con gli studenti di psicologia e con i massimi livelli di autorevolezza psicologica pensate al premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman che ha vinto il premio Nobel dell'economia da psicologo quanto ha lavorato sulle distorsioni cognitive livelli allora andrei avanti vedendo il video di Gianluca Argentini scusate non mi veniva il nome di Gianluca Argentini che in realtà nel suo volume tra l'altro è edito dal mulino da cui abbiamo poi tratto anche la diciamo l'idea di invitarlo in plenaria fa un'analisi molto interessante sulle dimensioni che facilitano il cambiamento nella scuola e anche degli ostacoli chiaramente all'interno di questa analisi che ostacolano il cambiamento nel sistema scolastico e secondo me è un discorso che si unisce molto bene anche a questo tema della frammentazione frammentazione di competenze frammentazione anche di esperienze se possiamo vedere il video ci sono tre aspetti sui quali è importante che ci concentriamo se pensiamo alla scuola e al suo cambiamento il primo è che la scuola anche quando appare bloccata in realtà è un brulichio di innovazioni di cambiamenti micro e di problemi che vengono fronteggiati quotidianamente e in questo brulichio c'è un grande apprendimento solo che è un apprendimento che non viene messo a sistema è un apprendimento che resta molto spesso locale resta provvisorio situato legato a specifici insegnanti in specifici contesti e non diventa patrimonio di sistema perché non abbiamo l'abitudine di apprendere lezioni collettivamente protocollando questi apprendimenti valutandoli e rendendoli patrimonio comune un secondo aspetto importante è che la scuola è un importantissimo argine alle disuguaglianze sociali e dobbiamo lavorare per rimuovere dentro la scuola tutti quei meccanismi che tendono a riprodurre le disuguaglianze infine un terzo aspetto che si collega al primo ma anche al secondo è che apprendiamo poco perché le scuole sono organizzazioni molto poco strutturate difficilmente dentro le scuole abbiamo organizzazioni con funzioni specialistiche rivestite da persone formate in quella direzione per molto tempo e di conseguenza tendiamo anche per come è fatta l'organizzazione scolastica a perdere quel patrimonio di conoscenze che invece la scuola continua a generare quindi questi sono i tre punti su cui è importante lavorare ecco questo intervento mi fa rifocalizzare un tema importante che mi sembra un po' diciamo lasciato da parte nell'ultimo periodo che è il tema del middle management scolastico c'è stato un ritorno del middle management adesso non se ne sente più parlare c'è la possibilità di specializzazione di figure intermedie all'interno della gestione della scuola c'è meno focalizzazione quanto è importante in realtà andare a fare crescere le competenze di gestione all'interno di una scuola è assolutamente fondamentale assolutamente fondamentale perché la leadership e nella scuola ci vuole leadership oltre che management leadership deve essere diffusa deve essere diffusa cioè noi dobbiamo creare vuol dire una struttura orizzontale e non tanto verticistica ma orizzontale in cui tante persone assumano un ruolo di leader cioè di persona che ha una visione che spinge a un discorso da fare questo è un punto fondamentale prima argentini dicevano una struttura organizzativa debole ma una cosa banalissima abbiamo tutti sotto gli occhi quante quanti materiali quanti idee quanta progettazione didattica viene fatta nella scuola una quantità enorme una quantità enorme che però non diventa bene comune di quella scuola perché io precario faccio le mie cose cambio scuola vado da un'altra parte me la porto a casa c'è una come dire una privatizzazione una precarizzazione una privatizzazione delle cose allora ho fatto un bellissimo progetto didattico sui sumeri magari perché mi piace questa cosa l'ho fatto inclusivo ci ho messo dentro facilitazioni semplificazioni differenziazioni ho fatto un bellissimo lavoro perfetto però sparisce me lo porto via invece allora un middle management che dica io mi curo di fare un tesoretto didattico cioè di costruire proprio questo questo patrimonio comune ecco sarebbe una funzione fondamentale dal punto di vista organizzativo come diceva Argentino perché allora in capo a 3, 4, 5 anni una scuola avrebbe un patrimonio diciamo di attività materiali documenti eccetera tra l'altro anche in digitale perché ormai chiaramente le competenze aumentano anche su questo per fortuna per cui avremo diciamo un'istituzione che si cura del proprio know-how invece di avere una frammentazione negli armadietti nelle borse nelle case dei docenti certo adesso affronterei tre aspetti più disciplinari cioè legati a proprio a strumenti pratici al pensiero che sta dietro il fare scuola e il primo video è quello di Camillo Bortolato insomma che tutti quanti noi qui conosciamo molto bene perché torna su un punto molto importante oggi compie gli anni oggi compie gli anni è il suo compleanno tanti auguri auguri a Camillo Bortolato è vero perché oggi è il suo compleanno perché torna su un punto essenziale secondo me relativo al Mab che è molto coerente con anche l'apertura di questo incontro di oggi cioè sugli spazi di autonomia del bambino io vedrei il video di Camillo Bortolato perché cominciare dalla fine perché è così che succede nella vita perché i bambini davanti al computer o al cellulare si aprono e si arrangiano loro a ricavare il percorso in modo che non sappiamo neanche descrivere e così abbiamo fatto anche noi con il metodo analogico diamo approfittando di questa capacità diamo una tastiera di lettura e i bambini si arrangiano a imparare a leggere oppure in matematica diamo la linea del 20 oppure l'immagine del 1000 e il bambino guarda 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 e entra nei vari particolari oppure partiamo dalla fine con la grammatica perché gli diamo una striscia e dopo mezz'ora sanno tutto e così faremo anche in storia perché daremo dieci immagini già a cominciare dalla prima e lì c'è tutta la storia e loro guardano apprendono e ricavano il percorso che va bene per loro e così anche in geografia tutto il mondo in scienze perché specialmente i bambini in difficoltà non sopportano la nostra forma di amore che è quella di andare piano loro non sopportano la dilatazione del tempo è più facile imparare in mezz'ora che in due settimane e per questo la didattica diventa sempre più leggera fino a sparire come nella vita di ogni giorno quando sono a casa in questo io ritrovo il fatto di partire dalla fine partire dal tutto dallo sguardo ampio Camillo Bortolato dice sempre evitare quella didattica goccia a goccia che molto spesso le discipline propongono per cui chiaramente il Mab ha avuto un impatto molto forte sulla didattica nei primi anni soprattutto nella scuola primaria anche nella scuola dell'infanzia adesso io ritrovo sempre degli echi importanti rispetto a queste dimensioni della maggiore libertà e responsabilità del bambino nel senso di fare un passo indietro come insegnanti e lasciare più autonomia autoregolazione da parte di bambini per cui ma la goccia a goccia questa esasperante lentezza del tidon un po' alla volta è una in Cina anticamente era una tortura la tortura della goccia che ti cadeva una goccia in testa ecco ma al di là degli scherzi capiamo benissimo che alla base di un approccio all'abortolato analogico c'è fondamentalmente una fiducia totale che il bambino e la bambina hanno delle potenzialità enormi enormi di conseguenza dare loro un alimento grande appetitoso a me è sempre colpito per esempio il discorso della lettura al di là della matematica da cui è partito l'approccio di Camillo Bortolato ma anche la lettura è formidabile lecce il libro addirittura tanti piccoli pezzetti ti do proprio interi libretti che sono la narrativa che tutti noi leggiamo naturalmente più piccoli naturalmente più ma devo darti una storia vera che ha un inizio una fine è un libro è il tuo piccolo libro e cominci subito e ti appassiona questa cosa qua e questo ti porta a diventare un lettore nessuno di noi avrebbe sviluppato l'amore per la letteratura nutrendosi di antologie adesso vorrei far vedere due video invece che riportano anche un po' il tema diciamo di quelle discipline di quei linguaggi che sono cardine tra molte discipline e nello specifico volevo far vedere il video di Elisabetta Garilli sulla importanza della musica come linguaggio e di Sarah Bean invece sul valore della geografia la musica è al centro dell'espressione della vita la musica è collante fra tutte le discipline e attraverso la sua attivazione delle interdisciplinarietà che porta i linguaggi ad unire e porta ad individuare i talenti inespressi dei bambini non ancora emersi totalmente dovremmo attivare un'intera società attorno alla musica attivarla in una discussione sociale importante perché la musica deve vivere a scuola perché può potenziare l'io individuale di ogni bambino e incominciare un cammino che è rivolto verso un noi un esterno la musica porta con sé la proiezione dell'esistenza la musica accompagna i bambini nella loro espressione e dunque prende per mano tutti i linguaggi i linguaggi artistici ma anche tutte le materie se incominciamo ad allenare il nostro ascolto che la madre musica allena forse potremmo incominciare a parlare di musica di dignità di musica che accompagna la crescita di ogni bambino cosa fare a scuola come fare a scuola per provare a riconoscere le differenze che in essa sono presenti le risposte potrebbero essere tante provo a cogliere alcuni aspetti che mi vengono da una disciplina quella nella quale nella quale vivo che è la geografia la geografia ci dà modo grande occasione insomma per provare a ricostruire le visioni del mondo partendo da quelle visioni del mondo che sono vicine a noi e che come dire ci aprono ci aprono lo sguardo ci danno la possibilità di aprire lo sguardo possiamo scegliere di stare lì dove siamo oppure di intraprendere questa sfida la geografia ci aiuta a riconoscerci negli altri e nelle rappresentazioni degli altri e delle altre persone che vivono attorno a noi penso che uno degli strumenti più interessanti non l'unico certamente che ha un forte condizionamento in noi nella strutturazione del pensiero e della visione del mondo che abbiamo che è il libro di testo il libro di testo che è uno degli strumenti con i quali familiarizziamo di più sui quali ci basiamo anche di più diventa quell'occasione tutta da decostruire e ricostruire per riuscire a parlare dell'altro dell'altra in termini di riconoscimento i nostri libri in questo momento non ci aiutano o meglio affrontano un certo tipo di sforzo ma come dire tendono alla semplificazione tendono a ridurre il mondo e la sua complessità in piccole pillole in briciole in frammenti l'invito che faccio è quello di provare a fermarsi su questi frammenti e ad amplificarli ad espanderli in modo tale da cogliere nelle semplificazioni che abbiamo sotto mano e con le quali come dire lavoriamo e che talvolta sono anche inevitabili ma che ci danno modo appunto di approfondire di stare di stare nel particolare per allargare dicevo per espandere per provare a riposizionarci in una situazione di complessità perché questo è il pianeta che dovremmo imparare ad abitare un pianeta complesso un pianeta sfaccettato un pianeta che necessita del contributo di tutti e di tutte penso che provando a ricomplessificare le semplificazioni possa essere una strada una strada per aiutarci a riconoscerci in uno spazio di condivisione lo spazio planetario nel quale viviamo partendo dalla prossimità ed allargando i nostri orizzonti ecco due interventi su musica e geografia che sono tra l'altro due discipline spesso bistrattate nella quotidianità scolastica sono di solito le prime discipline che saltano ogni volta che c'è da fare un progetto speciale una settimana particolare oppure molto spesso sono le discipline che vengono fatte in CLIL per cui diciamo non c'è grande investimento sono venute due idee per Val di Tara esatto sentiamo le due idee allora idea numero uno sulla musica proibire il flauto c'è c'è già come diciamo c'è già un movimento diciamo nella scuola secondaria con il flauto perché col flauto puoi picchiare i compagni no adesso a dirà degli scherzi io sono convinto che la musica si ascolti troppo poco a scuola ascoltare si prova a farla che è una cosa buona e giusta naturalmente però ascoltare il fascino dell'ascolto ascoltare tanta 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 musica noi abbiamo un patrimonio eccezionale cioè il mondo ha un patrimonio eccezionale per cui ascoltare 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 l'altra questione della geografia bellissimo discorso che fa ma quando abbiamo studiato geografia ma tanti ancora studiano geografia in una maniera così schifosamente nozionistica che tu devi imparare la lunghezza dei fiumi i confini no il prodotto interno l'ordo della Puglia no ma la geografia è curiosità cioè mi deve venire la voglia di andare in Puglia la nostalgia del viaggio no nostalgia del viaggio tu spingi le persone a conoscere se gli fai venire un desiderio no di fare qualcosa ma se se io devo imparare tutta la composizione socio-economica della Puglia la Puglia mi diventa dico la Puglia scusa ma mi diventa odiosa no perché devo studiarmi quanti metri cubi di taralli vengono prodotti in Puglia ma non ha senso fammi venire il desiderio di assaggiare che dopo ci vado e se voglio andarci ovviamente dovrò capire dove cavolo è questa Puglia quanto tempo ci metto e così via no ma vi ricordate quando dovevamo studiare i confini della Romania dell'Ungheria eccetera allora un'altra proposta per il nostro ministro abolizione dello studio dei confini i confini non si devono più studiare se la vedo un po' dura che passi il discorso fatto da Sarabine e da Elisabetta Carilli tra l'altro apre un tema importante che è stato al centro di due tavole rotonde all'interno del convegno cioè il susperamento degli stereotipi perché poi tutti e due questi interventi sottolineavano proprio il valore sulla costruzione dell'identità personale e collettiva e quindi geografia musica proprio anche come linguaggi per valorizzare le differenze in un'ottica chiaramente di superamento degli stereotipi su questo appunto noi abbiamo presentato anche nel corso del convegno il nostro il nostro progetto pluralità visibili che come Ericsson stiamo stiamo iniziando a sviluppare abbiamo adesso reso pubblico proprio anche per un lavoro nostro interno di casa editrice di una più corretta rappresentazione insomma delle varietà umane che stanno anche all'interno delle classi perché poi appunto il tema della proprio della presenza anche di queste differenze all'interno dei libri di testo ma all'interno dei materiali di dati c'è un tema veramente molto molto importante e molto 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 attuale per cui musica e geografia sono effettivamente discipline che hanno molto ragionato soprattutto sulla visione globale del mondo hai fatto bene Francesco ricordare pluralità visibili quel progetto che non è un progetto è proprio un documento un una serie di indicazioni che come Ericsson abbiamo sviluppato per dire scuola e libri e materiali rappresentano realmente quello che sta nel mondo o hanno una visione parziale la scuola purtroppo e libri di testo anche per la gran parte non rappresentano la realtà allora se io sono uno studente nero che vengo da un altro paese eccetera io non mi ritrovo né nei libri né nel corpo docente quando invece dovrei ritrovarmi in questo in questo percorso che faccio per cui è il buon il buon Einstein non so se era lui proprio viene attribuito che diceva è più facile spezzare l'atomo che un pregiudizio no? non è facile spezzare l'atomo pregiudizio è difficile però dai e dai in un certo senso un po' col libro un po' con la formazione di docenti un po' portando nella scuola sempre più insegnanti che appartengono no? all'infinita varietà delle delle differenze ma ecco questo renderebbe visibili le pluralità delle persone bene e chiudiamo con un ultimo video questa carrellata degli interventi per almeno nominare un altro tema importante che è stato il rapporto tra scuola monodigitale e famiglia e su questo vedremo la pillola di Marco Gui professor Gui che in plenaria ha trattato questo argomento anche in una tavola rotonda poi nel corso dei lavori delle giornate proprio con questa idea di patti di comunità per una gestione progressiva dell'entrata progressiva nel mondo online da parte della nuova generazione se possiamo vederlo abbiamo assistito in questi ultimi vent'anni a un processo di digitalizzazione della scuola che è stato fortemente spinto dalle istituzioni nazionali ed europee e ci sono delle buone ragioni perché questo sia avvenuto il fatto è che questo processo è stato molto veloce e come dire focalizzato ai benefici attesi della digitalizzazione sulla didattica questo processo ha creato nelle famiglie alcune frizioni specie nella fase nella fase preadolescenziale il tema è quello dell'ingresso nel mondo online che viene spinto da diversi fattori commerciali sociali ma anche dalla scuola che chiede ad esempio di fare i compiti online le famiglie manifestano l'esigenza che questo ingresso nel mondo digitale possa essere gestito in maniera più graduale e talvolta trovano nella scuola una forza che spinge in maniera contraria io credo che sia arrivato il momento per cui famiglie e scuole insieme debbano sedersi a un tavolo e gestire collettivamente questo ingresso nel mondo online perché avvenga in maniera graduale con delle soluzioni creative da trovare insieme questo io trovo sempre sia un tema affascinante perché da un lato c'è una tendenza a proibire l'uso dei dispositivi personali a scuola anche proprio recentissimamente il telefonino proibito perché uno deve venire a scuola col telefonino dall'altro parte c'è la realtà è uno strumento che fa parte pervade ogni aspetto della nostra quotidianità quindi diciamo c'è una questione relativa all'educazione all'uso non dei mezzo non dello strumento ma proprio della gestione del mondo digitale che chiaramente fa parte anche della nostra identità e c'è in realtà anche l'aspetto contrario c'è della famiglia che vede la scuola come quell'ente che spinge all'uso del cellulare per fare tutta una serie di attività soprattutto poi negli ultimi negli ultimi anni per cui questa è una tensione che mi sembra sempre molto molto interessante andare a sviluppare questa idea comunque diciamo di una gestione comune tra scuola e famiglia dell'uso digitale soprattutto nelle prime fasi d'uso penso sia molto importante perché effettivamente poi lì c'è una diciamo un uso molto anche molto inconsapevole spesso da parte dei ragazzini ma anche molto spesso proprio nella vita quotidiana delle famiglie ma Francesco hai visto qualche volta ancora al ristorante mamma e papà che danno il telefonino al bimbetto di due tre anni per guardarsi il cartone e non rompere le scatole mentre loro mangiano la pizza allora io credo che questo sia un grande uso improprio nel mezzo del mezzo digitale tra l'altro anche Alberto Pellai su questo ma lì bisogna capirsi bisogna capirsi bene allora un contedire è una distrazione è una distrazione allora lo proviamo un contedire è uno strumento di apprendimento strumento di apprendimento porta il tuo proprio dispositivo e lavoriamo e lavoriamo a produrre conoscenza competenze eccetera anche attraverso il digitale allora diventa un uso interessante del digitale non è dalla cosa distrazione perché altrimenti se identifichiamo il come dire il mezzo digitale come distrazione ipocritamente al ristorante le lo diamo poi quando ci tocca fare i compiti in digitale ci scocciamo come famiglie perché dobbiamo dargli il telefonino e dopo però magari a scuola il telefonino può essere usato assolutamente in maniera per cui sicuramente è uno dei temi più complessi anche perché c'è una spinta enorme da parte dei ragazzi da parte di chi vende e produce ovviamente i telefonini per cui non si è mai assistito a una cosa così potente almeno secondo me io ricordo non so qualcuno adesso non mi ricordo mai chi dice le cose ma qualcuno diceva Berkeley nel San Francisco eccetera negli anni negli anni della contestazione c'erano tutti i movimenti per i diritti civili eccetera che volevano cambiare il mondo in quegli anni lì in un garage producevano un'altra cosa e qual è che chi è che ha cambiato il mondo diciamo quindi no secondo me hanno cambiato tutto il mondo si è l'unico e gli altri però ironicamente si dice guarda mentre voi eravate a contestare in università noi costruivamo un telefonino che avrebbe invaso tutto il mondo sì beh anche perché appunto ho pensato di mettere alla conclusione un po' questo video proprio anche perché la sfera del digitale è proprio una di quelle in cui esplodono poi le complessità nel senso che poi la gestione del mondo digitale è molto problematica è comunque difficile è una competenza molto alta porta tutta una serie di capacità sociali di capacità di ricerca anche di anche di innovazione didattica se c'è un campo su cui anche il MIUR stesso in questi ultimi anni ha spinto e sta finanziando tantissima formazione tantissimi acquisti di materiali continua a essere quella del mondo digitale in questo momento quasi quasi esclusivamente c'è una fortissima spinta del ministero proprio sulla sulla dotazione digitale sulle competenze digitali è una di quelle dimensioni in cui poi in realtà vediamo come tornino poi tutti questi altri discorsi che abbiamo cercato di sviluppare qui anche oggi quindi la responsabilità individuale responsabilità collettiva la capacità di affrontare la complessità all'interno di discipline per cui mi sembrava un po' una dimensione quella del digitale che molto spesso viene sbilita al singolo strumento all'uso o meno del telefonino quando invece poi ci sta dietro tutto il tema poi invece della gestione poi di una sfera di vita che è altrettanto complessa come quella poi della vita reale anche perché la distinzione tra reale e virtuale ormai è un tema ormai superato ecco è chiaro che c'è altrettanto reale come la vita quotidiana negli altri contesti di vita abbiamo quotidianamente esperienza insomma di aspetti positivi ed aspetti negativi che nascono nel mondo digitale per cui mi sembrava giusto mettere un focus diciamo sembra stato un bel convegno sì sembra stato sì effettivamente è stato sicuramente un momento importante ecco anche perché dopo due anni di lontananza ecco lo scorso convegno era stato così come siamo oggi cioè in questa sala io e Giorgio Dossi seduti su queste poltroncine con davanti nessuno e le altre decine di workshop e di iniziative tutte gestite a distanza per cui la differenza si è sentita ampiamente sia per noi sia per i partecipanti ecco adesso c'è da organizzare il prossimo per cui diatti che torna tra due anni l'anno prossimo torna il convegno della qualità dell'inclusione scolastica e sociale Rimini sempre a metà novembre e quindi iniziamo proprio in questi giorni dei lavori di organizzazione per cui chiaramente questi convegni grandi sono importanti per noi anche perché ci obbligano a focalizzare l'attenzione sui temi a dare poi le direzioni su tutti i nostri piani editoriali formativi sulle nostre iniziative di comunicazione per cui è particolarmente utile anche per noi vivere queste esperienze proprio perché ci danno modo di capire anche il sentimento della comunità che sta attorno ad Erickson per cui è anche per riabbracciare decine decine di persone che ci hanno accompagnato in tutti questi anni si rivedono le rivediamo e si rivedono tra di loro c'è una comunità veramente importante che proprio si trova lì si trova a Rimini andiamo a Rimini quante volte l'ho sentito in questi anni ma ci vediamo a Rimini è un appuntamento è una cosa bellissima che ci dà grande conforto e che carica un po' le batterie al di là della fatica però è veramente una grande ricarica di batterie bene allora io vi ringrazio Dario Ianes ringrazio tutti voi tutti voi che siete stati qui con noi oggi pomeriggio e al prossimo appuntamento sempre seguite l'agenda Erickson per scoprire tutti i vari webinar che ci saranno nelle prossime settimane buon pomeriggio grazie arrivederci bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.